E' tornato il bel tempo sull'intera regione. Le temperature sono in rialzo e gli esperti promettono caldo e sole per molti giorni. Ormai la bella stagione è alle porte. Nonostante i soliti dubbi sulla legge Bolkstein, i titolari dei Lidi che si affacciano sul mare Adriatico stanno ultimando i preparativi per farsi trovare pronti almeno a partire dal prossimo fine settimana. In attesa delle vacanze estive numerose comitive famiglie non disdegnano di trascorrere sulla riviera Tavasto a Campomarino passando per San Salvo e Termoli qualche ora di relax sul bagnasciuga. Sale la voglia d'estate soprattutto tra gli studenti impegnati in queste ultime settimane di studio sui libri di scuola. A Termoli l'amministrazione locale sta ultimando i nuovi lavori sul lungomare Cristoforo Colombo per aumentare i parcheggi e creare maggiori servizi ai turisti. La bandiera blu conferita di recente nella capitale e anche al Lido di Campomarino deve spronare istituzioni, balneatori, commercianti e azienda autonoma di soggiorno e turismo a rendere gradevole e accogliente le vacanze estive sulla costa.